Per non dimenticare Rossella Urru, martedì prossimo 5 giugno Pietro Marras terrà un concerto per la liberazione della giovane cooperante italiana rapita il 23 ottobre 2011 in Algeria. L'evento, intitolato Una voce per Rossella, si terrà alle ore 17 nella sala della regina a Montecitorio. All'evento interverrà Claudia Lombardo, presidente del Consiglio regionale della Sardegna e sarà presente il presidente della Camera dei Deputati Gianfranco Fini. L'iniziativa promossa dall'Associazione Presenza Isole Comprese sarà trasmessa in diretta sulla web tv di Montecitorio.